Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A11 fare attenzione per personale su strada, per lavori tra Sesto Fiorentino e Firenze Nord in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Sulla regionale due cassi a restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 270. La viabilità cittadina a Firenze in Viale Etruria fino all'8 ottobre per rifacimento della pavimentazione, restringimenti di carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!